il vantaggio mamma mia rimane in campo la risposta leggende al momento che sta mettendo a dura prova la resistenza dei giapponesi qui Santoro sta scherzando nel vero senso del termine Enquist guardate che uuuh sbaglio chiudere mamma mia grazie Altro attacco E non passa il dritto di Enquist Santoro Buttino pieno per lui 6-0 E chiese che stanno